Nessun pericolo per la salute dei consumatori, per questo motivo sono state revocate le ordinanze che vietavano il consumo di verdure, ortaggi e frutta e l'utilizzo di acque sotterranee per irrigare nella zona dell'Italpannelli, l'azienda di Ancarano andata a fuoco lo scorso 29 marzo, e quanto emerge dai 28 campionamenti effettuati dall'azienda sanitaria unica regionale di Ascoli. Prescrizioni sostituite con semplici indicazioni sanitarie da adottare per cautela, che in buona sostanza si limitano al lavaggio accurato con acqua potabile di verdura, ortaggi e frutta, con il consiglio di eliminare la buccia da quest'ultima. Restano invece i divieti nel raggio di 5 chilometri sul pascolo degli animali e sulla loro alimentazione con foraggio eventualmente esposto alla ricaduta dei residui della combustione. Divieto che permane all'interno della cosiddetta zona rossa, che sarà revocato non appena saranno resi noti gli ultimi campionamenti effettuati il 6 aprile. Intanto l'inchiesta va avanti, i due operai di una ditta esterna impegnati in operazione di saldatura su un soppalco sono stati iscritti sul registro degli indagati. Un atto da parte del sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, titolare dell'inchiesta, che conferma ancora di più come l'ipotesi iniziale dell'incendio, partito proprio a causa del lavoro effettuato dai due operai, sia quella più credibile. Buone notizie invece riguardo le condizioni di salute del vigile del fuoco di bellante, rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento del rogo. Il 39enne, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo, dopo essere svenuto ed aver battuto la testa, ha riaperto gli occhi. I medici hanno interrotto il coma farmacologico per vagliarne pian piano le condizioni, ma lo tengono ancora sedato per non affrettare i tempi. Nelle prossime ore, in caso di riscontri positivi, i medici proseguiranno nel renderlo sempre più vigile.